un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele scusatemi chi mi conosce già lo sa che a volte capita anche questo ho un telefonino un po così è finita la memoria e mi si è interrotto il video quindi adesso dovrò fare la seconda parte di questa prima uscita della lanciastratos dove andrò esclusivamente a parlarvi di quello che è il tipo di acquisto che potete fare tramite un abbonamento un bollettino postale piuttosto che edicola l'unica cosa volevo solo dirvi di riporre tranquillamente nel blister anche dopo aver ovviamente montato tutto il vostro e la vostra prima uscita vedete vi ricordate questi no li potete tranquillamente mettere così eccolo qui guardate che belli li inserite qui e poi mettete il blister sopra e così lo avete in sicurezza allora ragazzi innanzitutto vi chiedo scusa per la lunghezza del primo video ma non sono riuscito a far diversamente perché ho preferito spiegarvi passo dopo passo tutto quello che andava fatto sapete che se voglio i video di otto minuti riesco a farli anche io però se vi devo spiegare come fare ragazzi mi dispiace ok allora seconda parte di questa a mio parere come ho detto già nella prima meravigliosa uscita la lancia stratos hf questo andiamo a toglierlo che è quello che abbiamo visto prima per il montaggio quindi adesso non ci serve più l'abbiamo visto nella prima parte questa è la guida all'opera mitorelli degli anni settanta costruisci il piccolo grande boli de lancia sapete che come vi ho detto nella prima parte del video faccio fatica a capire se questo è il modellino ma si è il modellino perché ci sono le viti a stella qua qua ci sono le viti a stella se lo acquistate guardatelo anche voi perché mi sembra fatto benissimo cioè eppure è il modellino sembra la vera ma comunque ci sono le viti a stella ragazzi qui adesso credo che sia il modellino secondo me è il modellino comunque dominatrice incontrastata di tutti i circuiti realistici 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 la stratos hf si aggiudica per tre anni consecutivi dal 1974 a 1976 il campionato mondiale costruttori meravigliosa andiamo a vedere come vi ho detto prima ragazzi lasciate perdere questa idea di avere il modello per forza pesante in metallo a una livrea verniciata non sono delle calcomanie una plastica verniciata in maniera ineccepibile sembra lamiera quindi quello che deve interessarvi sono le finiture a parte questo modello meraviglioso questa storicità di quest'auto è lunga 464 centimetri quasi mezzo metro 40 non 464 centimetri non mi sta neanche nella camera 464 millimetri che io mi esprimo sempre in centimetri e in millimetri e non mi viene automatico meno male che ho detto ho ragionato anche comunque dai ragazzi è lunga 46,4 centimetri per capirci 464 millimetri la larghezza è 21,9 centimetri e l'altezza è 13,5 centimetri cosa ci danno ci danno insieme ovviamente come materiali parlo ci sono i cerchi in metallo a cinque razze la strumentazione di bordo retroilluminata fari di profondità con copertura amovibile ragazzi il modellino questo qui sembra quella vera questo è il modellino bellissima interni racing con poltroncine sparco ruote sterzanti motore v6 dino ferrari qui abbiamo abbiamo il progetto innovativo a cominciare dal design a cuneo in provincia di torino per quelli che non fanno parte dell'italia poi abbiamo stavo vedendo se era il caso di leggere vabbè questa è quella vera ragazzi io ve la inquadro questa è quella vera di cui parlano qua è quella vera questo ovviamente il nostro modellino il modello allora questo modello è la stratos nella libria hf del rally di montecarlo del 1976 un magnifico modello perfettamente riprodotto targato torino m5 4374 quello del grande munari livrea all'italia cerchi in giallo in metallo a cinque razze pneumatici in gomma morbida fari di profondità con copertura amovibile sospensioni funzionanti e ruote sterzanti fedelissime anche le sue parti interne tutte spezionabili dal motore centrale all'abitacolo con comandi per il pilota e il navigatore le poltroncine sparco e le cinture di sicurezza o mp a 4 punti in più grazie al cabraggio elettrico la strumentazione retroilluminata per un effetto di sorprendente realismo le origini del mito con ogni fascicolo appassionanti rubriche dedicate al marchio lancia alle vetture da competizione ai rally memorabili e in più le schede di montaggio complete di illustrazioni e schemi di costruzione e schemi chiedo scusa di costruzione per un assemblaggio sempre facile e divertente qui abbiamo il telecomando che viene dato in corso d'opera con effetti sonori e luminosi attivabili da telecomando potrete attivare i fari anteriori e fari di profondità le luci anteriori e posteriori sound del motore del clacson e la retroilluminazione del cruscotto bellissimo ragazzi guardate bellissimo ovviamente come navigatore il grande munari aveva maiga adesso chiedo scusa non so se la pronuncia corretta è maiga o maiga penso più maiga va bene andiamo a togliere questo e andiamo a vedere cosa cosa si come si può acquistare allora innanzitutto il modello è composto da 110 uscite guardo per darvi conferma ma credo sia corretto sì perfetto numero uscite previste 110 allora il primo chiaramente la prima uscita come avete potuto vedere è di un euro il prezzo della seconda uscita è 5 99 e il prezzo delle uscite successive è 10 euro e 99 sempre che non facciate l'abbonamento che sapete che i primi tre numeri ve li danno a un prezzo ridotto che poi andremo a vedere allora potete decidere di farlo tramite edicola e non vi devo vedere io come fare perché vi recate lì e sapete tutto oppure fare l'abbonamento quindi o con pagamento bollettino quando appunto vi arriva il pacco ve lo sconsiglio perché pagherete in questo caso non 2 euro e 90 come nelle altre nelle altre collezioni ma qui pagherete 2 euro in più così c'è scritto e così vi dico quindi a ogni consegna pagherete 2 euro in più eccolo qua io vi consiglio di fare il pagamento con pagamento con pagamento chiedo scusa carta di credito e fare l'abbonamento con quindi pagamento carta di credito così non pagate le spese di consegna ok se fate l'abbonamento sia pagamento carta di credito che non quindi pagamento bollettino avrete tre uscite esclusive invece di 27 euro e 97 quindi la seconda da 5 99 più le altre da 10 99 pagherete 12 euro e 60 per avere la seconda uscita perché la prima l'abbiamo già qua che comprende il gruppo fare di profondità anteriore i fare anteriori completi e il pneumatico frontale con cerchione frontale più il raccoglitore per i fascicoli e sempre col terzo invio un regalo esclusivo senza costi aggiuntivi in scala 1 a 43 della lancia stratus rally di monte carlo del 1976 se invece deciderete di fare di sottoscrivere l'offerta premium vi danno in più due cose vi danno questo modellino al sesto invio in scala 1 a 43 il fiat 238 lancia assistenza rally ripeto con il secondo invio e poi riceverete la teca si stavo arrivando qui chiedo scusa io parlo intanto leggo riceverete la teca che è indispensabile chiaramente per proteggere il vostro modello allora cosa vi consiglio io sicuramente se potessi fare questa collezione non è detto che non la farò devo vedere se riuscirò a fare dei salti mortali ma non sarà facile come sapete ho già cinque collezioni da pagare io non vi consiglierei di aggiungere un euro in più perché vi danno la teca in più e il modellino però alla fine pagate 97 euro questa teca ecco io credo che per questo modello forse con 50 euro riuscite a fare la teca però ragazzi questo lo dicevete voi ok detto questo detto questo allora vi dico che la spedizione del primo pacco sarà effettuata a partire dal mese di febbraio contestualmente alla data di pubblicazione dell'uscita numero 4 quindi anche se sottoscrivetevi oggi l'abbonamento prima di febbraio non vi arriverà il numero 2 il numero 3 e il numero 4 perché aspettano che esca anche in edicola perché non ci sia un troppo diciamo un grande divario ecco una grande differenza tra abbonamento ed edicola poi la seconda spedizione avverrà circa un mese dopo la prima e conterrà le uscite numero 5678 le spedizioni successive saranno mensili ed ogni pacco conterrà quattro uscite stavo leggendo che da quello che scrivono qui già dopo il primo pacco ti danno quattro uscite al mese va bene qui ti dicono che ogni invio come vi ho detto prima prevede un contributo alle spese di spedizione di 2 euro sempre che non facciate l'abbonamento con pagamento carta di credito e allora è gratuito il piano dell'opera abbiamo già detto che sono 110 uscite basta qua abbiamo detto tutto vediamo un bellissimo meraviglioso ma lo dico con tutta sincerità modello in scala 1 a 8 di questa icona automobilistica meravigliosa ragazzi mamma mia quanto è bella questa auto allora adesso io vi farò vedere per chi fosse interessato innanzitutto se siete interessati voi a iscrivervi al canale ragazzi e attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video io vi ringrazio sto quasi arrivando agli 800 iscritti che per uno che non è neanche capace a fare i video insomma parliamoci chiaro per me è tantissimo grazie di cuore ragazzi adesso se avete piacere e vi dico che se amate quest'auto non potete non aver piacere ma non perché mi dobbiate guardare ragazzi io non guadagno niente anche se mi guardate tutto il video perché perché non ho ancora la monetizzazione il mio diciamo tra virgolette lavoro è del tutto gratuito non vengo pagato da nessuno quindi anche se state ma lo dico per correttezza così lo sapete anche voi finché non superi 1000 iscritti anche se mi state dieci ore a vedermi questo video io non guadagno niente a me interessa non fare video lunghi perché devo guadagnare di più ok ragazzi qualora un giorno riuscissi a guadagnare che non è detto a me interessa fare video lunghi perché purtroppo non posso farne a meno perché ho deciso di far leggere dare la possibilità di leggere a tutti coloro i quali hanno piacere anche i contenuti del fascicolo ok ragazzi ecco perché è una macchina del genere non si può non non si può non essere interessati anche della storicità non si può ragazzi comunque guardate questa è la prima pagina dei servizi ragazzi manterrò il cellulare con la mano così permetterò a voi tutti di poter leggere meglio qualora foste interessati buona lettura ragazzi qui tra le altre cose vi spiegano da come è nato il nome Stratos perché la Fiat poi decise di sospendere la fabbricazione di questa meravigliosa auto che allora costava se non sbaglio 10 milioni erotti parliamo degli anni 70 e oggi ha un valore di 500 mila euro ragazzi è inutile che mi contestate perché io ho ripetuto quello che c'è scritto qui che è la storia di quest'auto quindi non è che mi sono inventato io la cifra ecco giusto per chiarire io non mi invento mai nulla piuttosto mi taccio questa è la scheda tecnica della macchina reale eccola qui vedete il listino era 10 milioni 725 mila lire che considerando una lancia beta di allora una 1.4 cilindrata costava 3.136.000 quindi tre volte superiore per capirci è come se una macchina oggi costa 25 mila euro e quella ne costava 75 mila e oggi quelle auto stradali valgono almeno 500 mila euro che è quello che vi dicevo prima abbiamo quasi finito però questo ragazzi va letto guardatevelo se non avete acquistato ovviamente il primo fascicolo guardatevelo e se non avete acquistato il primo fascicolo anche se poi per una ragione o per l'altra deciderete di non farlo andate a comprare un numero due se non tre addirittura prima di tutto perché il cofano è meraviglioso poi perché c'è la targa in alluminio del rally di Monte Carlo del 1976 ragazzi avete due cacciaviti uno medio uno piccolo al prezzo di un euro vedete voi eccoci a pagina 11 io me lo sono letto tutto questo ed è davvero interessante ecco qua all'interno della macchina vera e questa è l'ultima pagina e Michele a questo punto vi ringrazia del vostro tempo grazie ragazzi se deciderete di iscrivervi grazie ragazzi a quegli iscritti che visto il filmato quanto è durato decideranno di non cancellarsi ok ragazzi Lanciastratos HF Livrea all'Italia Edizione Centauria Scala 1 a 8 La Regina dei Rally Michele vi saluta vi ringrazia e augura una serena notte perché sono le 11 quasi di sera augura una serena notte a voi e a tutti i vostri cari più cari ciao ragazzi